I sospetti dei poliziotti hanno colto nel segno. Quell'incidente accaduto mercoledì scorso a Colico aveva lasciato alcuni punti interrogativi in sospeso. Dai primi accertamenti gli agenti della Polizia Stradale di Bellano, intervenuti sul posto con una pattuglia, avevano appurato che un Lancia Y era entrata in collisione con una Mini Cooper. Il conducente della Lancia Y, spiegala a quest'ora di Lecco, non si era accorto che la Mini era ferma sulla strada a causa del traffico congestionato. Come da prassi sono stati sentiti i testimoni e le persone coinvolte nel sinistro. Fin da subito alcuni atteggiamenti avevano fatto sorgere qualche sospetto nella mente dei poliziotti intervenuti che facendo finta di nulla avevano riportato fedelmente quanto riferito dalle persone interpellate. I dubbi riguardavano in particolare gli effettivi attori dell'incidente. Agli uomini della Stradale era sembrato non corrispondessero a quelli che si erano presentati davanti a loro. Nei giorni successivi la sensazione è che qualcosa non collimasse cresciuta. I poliziotti della Stradale di Bellano hanno quindi deciso di approfondire meglio l'intera vicenda e il loro intuito in effetti aveva fatto centro. Infatti dopo aver convocato le persone coinvolte nell'incidente del 24 gennaio scorso di Colico superate le iniziali reticenze, si era appurato che chi aveva dichiarato di essere alla guida in realtà era passeggero e di conseguenza il trasportato era il reale conducente. Il motivo si è poi scoperto. Il conducente dell'auto, 35enne, non avrebbe potuto utilizzare quella vettura. Era in possesso di una patente di guida conseguita all'estero in Kosovo che non consente di mettersi al volante in Italia se non dopo aver fatto gli esami per la patente italiana. Conducente trasportato sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per il reato di sostituzione di persona.